Alissa, è ora di andare a letto ti accendo la lucina ti sei lavata i denti? ok, buonanotte allora buonanotte ciao cosa è questo rumore? sono il mostro che vive sotto il letto il giorno dopo Alissa, è ora di andare a letto ok buonanotte buonanotte mamma ehi, sono il mostro che vive sotto il letto si spaventa sempre il giorno dopo Alissa, è ora di andare a letto ok metti via i giochi ecco qua buonanotte mamma buonanotte Alissa ciao 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 ehi sono il mostro che vive sotto il letto e io sono il mostro che vive sopra il letto aiuto 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 me ne vado me ne vado fa troppa paura fa troppa paura ok, mi nascondo qui no 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 vai via vai via vai via fa più paura di me io me ne vado fatemi uscire fatemi uscire da questa casa vai via da casa mia questa è la mia casa perché quando dormo mi fai paura scusa scusa, ti prego perdonami perdonami volevo soltanto farti uno scherzo ok però allora vai via perché se no ti rifaccio questa fatta no è posto ciao 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 oddio oddio vai ok se n'è andata no sono ancora qua no mi sto seguendo mi sto seguendo no 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 lascia mi stare lascia mi stare vai via vai via vai via brutto mostro ok però sì però devi andare fuori ok va bene me ne vado me ne vado non farò più paura a nessuno neanche a voi a casa lo giuro io in realtà sono buono volevo soltanto fare degli scherzi ok ok tu mi prometti che non mi fai più quella faccia va bene non mi fai più quella faccia che non mi fai più quella faccia è un altro che non mi fai più quella faccia non mi fai più quella faccia Grazie a tutti.